2.500 euro a bar e ristoranti della Toscana colpiti dalle chiusure di questo 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19. Il bando è stato annunciato dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni insieme all'assessore alle attività produttive Leonardo Marras. Per la Toscana sono 20 milioni in arrivo dal governo sui 250 previsti per le regioni nel decreto legge del 30 novembre. Sono circa 20.000 gli operatori toscani potenzialmente interessati al provvedimento. Il contributo sarà uguale per tutti e sarà erogato ai richiedenti seguendo l'ordine di presentazione delle domande fino all'esaurimento dei fondi. Come regione toscana siamo al lavoro per poter utilizzare questa norma che prevede 250 milioni di euro per le regioni italiane. Vi è poi la tabella che li divide. La Toscana significa 20 milioni di euro. Fra le categorie costrette a provvedimenti restrittivi, lo vediamo oggi, sono i bar e i ristoranti. Quindi noi questi 20 milioni li destineremo ai bar e ristoranti della Toscana. Il bando partirà rapidamente con una procedura semplificata. Gli esercenti dovranno presentare un'autocertificazione dichiarando di aver subito tra gennaio e novembre una diminuzione di almeno il 50% del fatturato rispetto alla normale attività. Questo provvedimento aiuterà più i piccoli e magari le strutture più grandi avranno meno sollievo da una misura del genere. È un intervento solidale. Quello che poi rimarrà indietro, vedremo nel 2021, come fare ad aggiustarlo. Ma cercheremo di fare davvero tutto molto alla svelta, addirittura provare a vedere se già a partire da lunedì la delibera possa essere assunta in modo tale da dare via il corso e l'iter normale per la pubblicazione del bando. Le risorse di questo fondo sono destinate alla spesa corrente e non possono essere utilizzate per investimenti. Gianni ha quindi pensato di destinarle al settore della somministrazione che ha avuto perdite notevoli.